buongiorno e bentrovati amiche amici rossoneli come la va siamo pronti dai che manca veramente poco all'inizio di questa guerra di questa battaglia dovete sapere che ogni volta che comincio a fare un video puntualmente mi squilla il telefono o mi squilla il telefono o mi interrompe qualcuno e poi polano le precazioni in maniera allucinante so che non me ne può fregare di meno però è la sesta volta che riprovavo comunque a rifare il video questo proprio per il discorso che io lavoro in diretta con le notizie poi eventualmente aggiornate del giorno stesso qualcuno oggi mi ha chiesto per l'ennesima volta ma perché tu fai sempre video in macchina è diventata quasi stucchevole questa cosa a parte che il mio format è questo punto 1 punto 2 io non ho la fortuna di poter rifare sempre a casa però se mi seguiste veramente capireste che io li faccio anche a casa le faccio anche all'aperto nel giardino dove va di là il 90 per cento però sono in macchina per ovvi motivi lavorativi perché ho la fortuna come gli altri youtuber magari che possono permettersi di farli a casa perché lavorano da casa a quanto pare oppure come altri che li registrano la sera prima li fanno passare per quelli della mattina io no io faccio tutto in diretta se è quello delle 10 l'ho fatto alle 10 meno 5 se è quello di mezzogiorno l'ho fatto a mezzogiorno meno 5 questo è questo è bello diretta oggi facciamo un po' di polemica sì una polemica pre partita perché finalmente ho trovato qualcuno che è d'accordo con me di cosa parliamo parliamo di della gente della gente fifa sabatino durante no che bene o male rispecchia la mia filosofia vuoi sapere anche se è la vostra filosofia che riguarda girù secondo sabatino durante il tempo è maturo per girù non per restare per andare attenzione ora non cominciate a inveire seguite bene il discorso perché anche lui è convinto proprio del fatto che il giro non debba rinnovare perché dice quando un giocatore raggiunge 30 34 anni a meno che non sia la storia di quella squadra per lui è out ok soprattutto per un campionato come quello italiano che ha bisogno di rilanciarsi tu non puoi avere appunto ibraimovic e girù che hanno chiaramente fatto la storia del calcio giocando alti livelli ma devi anche pensare al futuro se c'è in spogliatoio con quel giocatore di carisma devi avere anche gente che possa usufruire di questo carisma quindi gente giovane gente giovane davanti basterebbe quindi il solo il solo ibraimovic per avere poi giocatori giovani che possono acquisire questo carisma di ibraimovic questo non vuol dire che ora girù è diventato improvvisamente inutile semplicemente semplicemente bisogna seguire un po l'esempio anche delle altre squadre ad esempio il barcellona sta per andare a prendere un certo vito roque dal sud america brasiliano e questo è un nome dei tanti come come ad esempio anche l'inter ha fatto un grosso errore andare a riprendere lukaku aveva già zeko che era l'uomo di esperienza l'uomo della squadra poteva puntare su un alvarez come poteva fare benissimo che garantiva un tot di gol sicuramente e che avrebbe potuto rivendere poi una cifra esorbitante perché c'è anche questo la dire signori perché il campionato italiano si sta riempendo di cariatidi si sta riempendo di di cariatidi di 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 giocatori anziani giocatori quasi a fine carriera stiamo diventando come il campionato turco il campionato greco siamo allo stesso livello ragazzi e non è questo il modo per rilanciare il calcio italiano perché noi dobbiamo rilanciare il calcio italiano il calcio italiano come si rilancia credendone giovani valorizzando i giovani acquisendo anche giovani invece ci andiamo a prendere veramente o cariatidi o giocatori a fine carriera che sono comunque che sono comunque per loro ancora validi perché comunque vengono a giocare in un campionato in questo momento inferiore noi per rilanciare le squadre signori gioca serve poco niente per questo che durante dice girù out ok e il milan dovrebbe pensare al futuro il milan deve pensare in questo momento al futuro ma come anche le altre squadre italiane non tutte perché il milan in particolare comunque continua a pensare a a giocatori di una certa età come vi ho detto anche stamattina il giocatore svincolato a zero che si vincola dal tottenham ha già 31 anni e il milan sarebbe intenzionato solo perché un parametro zero chiaro perché il giovane comunque deve investire il milan non è che non ha investito su giovani e questo siamo d'accordo perché comunque ha investito su malicciao ha investito su su branca ha investito su a suo tempo su calulu eccetera eccetera però lì davanti il problema è importante invece si pensa più che altro a a discutere e a trovare la quadra per rinnovare girù a quasi 4 milioni di euro l'anno bisogna avere anche un po il coraggio secondo me a un certo punto di fare determinate scelte bisogna andare bisogna andare avere avere il coraggio di andare a cercare prendere il coraggio e le capacità di andare a prendere giocatori come quello che vi ho citato il famoso rocchè come cavolo si chiama il famoso vittor rocchè che stanno andando appunto al bacio a barcellona ma anche come in passato vinizio vinizio junior oppure anche rodigro lui stesso lui stesso la gente fifa era quello che lo propose prima le italiane ma come è capitato con altri giocatori non non ci dice poi chi l'ha proposto però il assunto è questo è che lui propone giocatori giovani diverse squadre italiane ma poi puntualmente le squadre italiane preferiscono virare su obiettivi diversi in questo caso il milan ha giovani ha preso giovani pioli ha preso a pioli sono stati presi diversi giovani tra l'altro mi dimenticavo anche di adri perché ormai adri ce lo dimentichiamo perché è scomparso ai radar pensiamo che non esiste più invece adri esiste c'è è un giocatore concreto come l'aziettici come adri giovani che poi non vengono valorizzati forse anche per questo motivo che non si vanno a prendere perché non si crede nei giovani il calcio italiano non crede nei giovani però il succo del discorso è e non so siete d'accordo anche voi fatemelo sapere sotto nei commenti potrebbe essere sensato non rinnovare a girù per 4 milioni l'anno e avere il coraggio di andare a puntare su un profilo più giovane lasciamo stare con quali soldi perché un victor roquet non costava 40 milioni di euro ok se vuoi i giovani li trovi e anche a prezzo contenuto ma ci devi credere io ribadisco il concetto io non odio girù non ho nulla contro di lui e lo ammiro per la sua professionalità ho tanta stima però c'è un tempo per tutti e se veramente se veramente il calcio italiano in generale si vuole rilanciare deve credere veramente di più nei ragazzi giovani cosa che non sta facendo per nulla lo stesso pioli non crede nei giovani tranne quando è messo alle strette perché voi vedete stasera molto probabilmente giocherà a Malik Chao ma perché è quasi una cosa obbligata perché è di fronte all'evidenza dei fatti che fino adesso lui non ha valorizzato un giocatore giovane che è comunque forte che ha dimostrato quando è entrato di saper far bene rispetto anche a un Gabbia che nonostante tutto è giovane rispetto a un Tomori che non è il pieno delle forze però Chao ce l'ha sempre avuto in panchina dalla prima di campionato gli ha fatto solo giocare le ispezioni di partita finale forse uno o due stasera molto probabilmente lo mette in campo solo perché è obbligato Adria è sparito a nulla l'Azetic è stato dato in prestito cioè l'emblema abbiamo dato l'Azetic in prestito perché non è pronto perché i più oli non sono mai pronti perché non è pronto ma abbiamo tenuto un Giroud un Eurighi che è inesistente è un Giroud che è un giocatore un calciatore che in un'annata ti può garantire al massimo 8-10 gol non è un ventenne che sta andando verso il pieno della carriera è un 36enne che sta andando verso il fino carriera questo è il sunto del discorso fatemi sapere ragazzi cosa ne pensate io vi rimando a più tardi o a domani sempre comunque ovunque forza mila noi ci sentiamo più tardi e adieu